Mandorli in fiore non è soltanto un'immagine suggestiva ma è anche una realtà produttiva e commerciale che si sta espandendo tra l'altro sempre più verso nord complice il cambiamento climatico. In particolare ci troviamo nell'areale della pianura imolese, siamo in compagnia di Michele Zaniboni che rappresenta Romagna Impianti e questo è un progetto che è nato nemmeno da due anni che rappresenta un mandorleto intensivo anche perché la frutta in guscio davvero sta crescendo tanto anche come richiesta. Come nasce allora questo progetto nella campagna imolese? Venendo a conoscenza del mandorlo come opportunità abbiamo pensato di realizzare un impianto per far vedere nel nostro territorio come si comporta questo tipo di cultura. Uno dei dubbi che avevamo era la fioritura che effettivamente fosse tardiva come ci veniva detto e in questo momento abbiamo riscontrato che effettivamente la fioritura è come ci era stata detta. Quindi in questo momento siamo quasi in piena fioritura e quindi usciamo dal problema grosso che sono le brinate primaverili. Certo, infatti se noi vediamo le piante, tra l'altro la coltivazione è particolare, l'impianto è particolare, ci sono anche testimoni a confronto perché non è la stessa varietà e andremo adesso a capire quali e come. In effetti noi vediamo che ci sono ancora dei fiori in boccio e altri invece pienamente sbocciati. Dicevamo che queste piante hanno pochissimo, nemmeno due anni e vedete quanto sono già sviluppate ma soprattutto al terzo anno saranno già produttive. Allora, sempre per Romagna Impianti, Marica Bianconcini. Io ho detto diverse varietà, un sistema di allevamento un po' controcorrente, raccontaci tutto. Allora, l'impianto è stato realizzato utilizzando prevalentemente le tre varietà a fioritura più tardiva, extra tardiva, oserei a spingermi di dire diciamo. Quindi abbiamo cinque file di macaco. Che è questa praticamente all'interno dove ci troviamo. Esatto. Una fila di penta e tutto il resto dell'impianto con la varietà Via Alfas su cui noi abbiamo puntato molto in quanto diciamo così è un incrocio, diciamo un ibrido tra Spagna e Italia. Perché un suo genitore è appunto la mandorla Tuono che è una mandorla diciamo così celeberri ma nell'areale anche del pugliese e quindi dà un prodotto di ottima qualità. In questo impianto i sesti sono stati diversi proprio per permettere alle aziende agricole di notare le differenze e sulla fila abbiamo provato dei sesti che vanno da un metro, un metro e venti e un metro e trenta. Questo proprio per permettere anche alle aziende di toccare con mano qual è effettivamente la distanza che si confà di più alla dimensione aziendale. Infatti ricordiamo che comunque questo impianto è realizzabile anche in piccoli pezzamenti diventando già produttivo comunque. Ecco tra l'altro noi vediamo anche a confronto tecniche diverse e impianti diversi lo vediamo dietro di noi ad esempio con potature molto più blande anche perché agite in collaborazione proprio con l'Istituto Navarra per quello che riguarda la ricerca agronomica in agricoltura. Questo sempre per dimostrare agli agricoltori l'importanza di scegliere insomma questo sistema e tra l'altro anche la possibilità dopo di interagire con altre coltivazioni tipiche di queste terre ad esempio il vigneto anche come epoca perché la stagionalità e avere insomma finisce una cosa e ne comincia un'altra magari per un agricoltore utile. E' molto utile in più si parte già diciamo così dalle prime operazioni proprio dell'impianto ad utilizzare le macchine considerate che per la densità molto alta di piante si utilizza appunto una macchina per piantarle. E quindi questa è un'operazione che normalmente si utilizza per i vigneti ma anche per la posa degli astoni e dei fruttiferi quindi l'operazione di posa a macchina è la stessa ed è molto importante perché permette così di ridurre i tempi già a partire dalla progettazione dell'impianto alla realizzazione per poi arrivare a quello che è la meccanizzazione dell'impianto una volta produttivo. Ecco meccanizzazione parola magica oggi come oggi perché in effetti i costi della manodopera sono alti ma soprattutto si fa pure fatica a trovare la manodopera. Allora Giuseppe Rutigliano rappresenta Agro Millora che è leader mondiale nel settore vivaistico. Tra l'altro noi abbiamo detto la frutta in guscio oggi in Italia sta vivendo una stagione d'oro ma dobbiamo ricordare che abbiamo molti paesi del Mediterraneo che sono coinvolti in questo Spagna in primis l'abbiamo citata e poi il sud Italia ma adesso siamo arrivati al nord diciamo. E quindi qui in Emilia Romagna la meccanizzazione del mandorleto intensivo diventa il plus in più per una proposta utile. Io definirei innanzitutto che questo è un mandorleto sostenibile ed efficiente. È un po' venuto fuori con l'esperienza acquisita da parte della nostra azienda su quello che è poi un modello di coltivazione ben conosciuto che è quello dell'olivicoltura. Nel mandorleto in Italia oggi abbiamo già circa 800 et realizzati con questo sistema ma per una questione genetica con l'introduzione anche di un nuovo panorama varietale possiamo anche introdurre questa coltura anche alle attitudini dove prima era quasi impensabile gestire una coltura come il mandorleto. Abbiamo forniture molto tardive anche che vanno oltre infatti oggi siamo a 5 di aprile abbiamo ancora un 20% di fiori ancora chiusi e questo quindi ci dà la possibilità di ben sperare per l'introduzione di questa coltura. Ma l'obiettivo principale non solo del mandorleto in Emilia Romagna ma di un sistema ad alta efficienza come quello dell'impianto superintensivo è legato soprattutto alla introduzione della meccanizzazione in tutte le fasi culturali. Dalla piantumazione come diceva Marica alla raccolta alla potatura anche la potatura di formazione può essere fatta dal primo giorno se noi guardiamo qui l'impianto possiamo vedere anche come vi siano fatti per la sua formazione ben 5 tagli con la macchina quindi 5 topping e alcuni edging per la formazione della parete produttiva. Ecco quindi diciamo che può essere davvero l'alternativa culturale per queste campagne adesso voi vi siete un po' dispersi ma noi siamo arrivati al momento dei saluti diciamo che quindi in tre anni diventa produttivo che fare ci diamo appuntamento ad agosto quando ci sarà la raccolta allora voi ci potete ritrovare e rivedere lo state vedendo in sovrimpressione e comunque l'appuntamento in tv è per una settimana esattamente qui alla stessa ora. Grazie a tutti. In collaborazione con Grazie a tutti. Grazie a tutti.